Grazie, noi torniamo in studio per parlare come vi avevo anticipato di un problema che riguarda adolescenti e preadolescenti, è stato definito il bullismo, di fatto è un abuso di potere, accade nei gruppi, allora ci ha raggiunto in diretta questa mattina il nostro ospite è un pedagogista, Eugenio Lampacrescia, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Allora, gli ultimi eventi di cronaca, l'ultimo in ordine di tempo a Iesi, un gruppo di ragazzi filma le proprie compagne negli spogliatoi, oggi abbiamo la notizia delle sospensioni attuate a scuola, a scuola si verificano questi problemi, c'è stato un aumento negli ultimi anni o cosa è cambiato? Io direi che non c'è stato un aumento, direi che si è alzato il livello di attenzione nella valutazione di alcuni comportamenti appunto come questi del bullismo che sono azioni che mirano deliberatamente a fare del male a qualcuno, a gestire in maniera impropria un potere e diventa veramente difficile per le vittime difendersi. Diciamo che c'è un aumento dell'attenzione educativa e c'è anche una maggiore informazione. Si diffonde oggi negli anni di Facebook, dei social network anche il cyberbullismo, come fronteggiarlo? E questo è un dato di novità, nel senso che non possiamo demonizzare gli strumenti tecnologici per la nuova comunicazione che sono peraltro una grande risorsa e per i ragazzi in particolare una protesi relazionale, però c'è un'emergenza educativa nuova, cioè come utilizzare questi strumenti in maniera intelligente. E chi dovrebbe aiutarli nell'uso? La mia idea è che si possa veramente fare una sorta di patto educativo, soprattutto con gli adolescenti, quindi un patto educativo che sia anche possibilità di dialogo fra i genitori per esempio, i ragazzi. I genitori sono normalmente poco istruiti nell'uso di questi strumenti, i ragazzi nascono invece già molto abili nell'uso di questi strumenti. Io credo che il patto educativo potrebbe essere proprio questo, chiedere ai nostri figli di diventare per noi degli insegnanti nell'uso di questi strumenti, rimandando invece una responsabilità educativa, quindi un uso intelligente. La vigilanza quindi non serve il controllo? Credo che valga di più la possibilità di un dialogo educativo, più che il controllo. Bene, a scuola esistono però anche dei progetti che mirano alla prevenzione di fenomeni che guardano al diverso, che guardano al bullismo, allora noi siamo andati in una scuola media di Ascoli Picciano. Vediamo questo servizio. Questa è la seconda F della scuola media Luciani di Ascoli. Qui state portando avanti un progetto che si chiama Diversamente Uguali. Lei cosa fa, professoressa? Io in questo progetto sono un'osservatrice, quindi vedo i ragazzi come lavorano con l'educatore. Ne faccio tesoro, perché loro lavorano con metodologie che non sono quelle tradizionali, che posso fare io durante una lezione in classe. Metodologie attive, partecipative, in cui il ragazzo non ha solo una trasmissione di conoscenza, ma è portato a crearsi un'opinione personale su chi è l'altro, su chi è se stesso e a maturare uno spirito di accoglienza. Allora andiamo proprio dall'educatore. Questo progetto è attivo nelle province di Ascoli e fermo, praticamente voi cosa fate? Allora, realizziamo nelle classi che aderisco, sono circa 110, facciamo un percorso con ogni classe. Il percorso è composto da tre incontri di due ore ciascuno. Allora si tratta di dinamiche partecipative, in cui i ragazzi sono coinvolti emotivamente e quindi poi sulla base delle attività che facciamo, poi sviluppiamo una riflessione per capire come mai abbiamo avuto certi atteggiamenti piuttosto che altri. E in effetti allora proviamo a chiedere che cosa hai imparato da questi incontri? Beh, la diversità tra noi, perché in fondo siamo tutti diversi, ma infine siamo esseri umani, quindi qualcosa di uguale ce l'abbiamo. Per te questa esperienza cosa ha significato? Eh, mi ha insegnato molte cose. Prima avevamo molti pregiudizi, soprattutto sui estracomunitari, pensavamo che erano tutti dei delinquenti e invece abbiamo imparato che alla fine tutti sono come noi. Rispetto ai tuoi coetanei. Eh, che si possono formare dei gruppi, ma alla fine c'è una caratteristica che ci rende tutti uguali, cioè essere umani. Ecco, lo abbiamo visto, sembra che il messaggio sia arrivato a questi ragazzi, quindi questo tipo di progetti condotti in maniera partecipata, come abbiamo sentito, sono utili. Anche questo è una sorta di patto educativo, quello che lei chiamava? Assolutamente sì, ma mi pare di ravvisare la centralità, diciamo, di un'azione educativa. L'esistenza, la vita è incompatibile con l'isolamento e l'individualismo. Quindi il fatto stesso è che questi ragazzi lavorino su un progetto pensando che la propria vita, la propria esistenza è in collegamento con altre persone, con altri simili, è fondamentale. Noi veniamo forse da un periodo dove abbiamo un po' esasperato l'individualismo. Dobbiamo forse ritornare a pensare che ogni azione che facciamo ha, come dire, un risultato non solo su di noi, ma anche sempre sugli altri. Quindi a scuola si portano avanti questi progetti per prevenire, invece a casa brevemente? A casa io credo che, lo dicevo adesso, dialogo educativo assolutamente e centralità del rispetto dell'altro, di se stessi ma anche del rispetto dell'altro. Non dimenticarsi mai che ci sono anche gli altri, diciamo, anche noi, che sono fondamentali. Gli altri ci aiutano a riconoscerci, quindi sono centrali nella nostra esperienza esistenziale. Grazie a tutti.